Come promesso partiamo dalla parte bloccata della parte precedente e andiamo avanti. Speriamo di riuscire a ammazzare questo qua perché io non mi ricordo assolutamente com'è il vostro imare. Andiamo, cambiamo. Questo dovrebbe tipo aspirare qualcosa. Ok? Ok, ok, ok. Buonissimo. No. Ah, bastardo. Ok, ora dobbiamo spararmi, va bene. Sempre più veloce, tra l'altro, un pezzo di bastardo. Ah, ok. Yeah. Poi ma che è molto lungo questo coso. No, mi sicuro che non è finito. No, non è finito ancora. Ok. Yeah. Stanno andando troppo bene già per i miei gusti. E la cosa non è fattibile. Infatti, non è fattibile. Non era fattibile. Non era fattibile, avevo detto che non era fattibile. Soprattutto per questi cosi che è saltello. Non è fattibile. 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 Il problema è che non ho abbastanza vite. Tutto lì il problema. Io fortunatamente ho fatto un salvataggio. Quindi, anche se dovessimo vivere un po' di volte, casomai, riavvivo il safe state da lì e buonanotte. Bravo! Siamo un genio. Ora, mettere due cose qua, perfetto. Ok. Dunque, ora... Cominciamo con i coi saltellanti, sì. Ah, però adesso trovo di nuovo il mio amico. Perfetto. Cambiamolo di nuovo. Ok. Per risoltenere i X per dopo. Perché è più utile. Un gran pezzo di merda. No! Ma quanto sei stupido! Quindi, ti devi rendere sempre la vita difficile. Nooo! Oh, Gesù, bambino! Oh, questo è il bossinale d'altra parte. Non è che possiamo pretendere. Aspiri? No, non aspiri. Ah, muore. Ok. Forza di fare, però uno impara... Impara come... Come agisce questo stronzo. So, bastardo! Pezzo di merda! Ah, Gesù! Ok, ora trovo di nuovo il barile. Perfetto, teniamo di nuovo lui. Intanto lui muore subito. In realtà è più agile. È più difficile da usare. Nel senso che sarebbe più comoda la planata di X. Togliti. Ok. No, cosa fai? Sto parlando due volte. Un po' una volta sola. Gì, sì. Gì, sì. Vieni. Adesso comincio a girare a respirare, se non sbaglio. Ah, sì. Allora, se girano qui, siamo a posto. Eh, sì. Addirittura a coppia. Buonanotte. Eh, sì. Io pensavo di passare in mezzo. Quanto è lungo ancora, su cosa? Ancora? No, mica è morto ancora. Dammi un barile, però. Bravissimo. Prendiamo di nuovo lui. Cos'è questo, Gianni? Non mi ricordo. No, mi piace. Ce l'avevo fatta resistere. Pezzo di merda. No! Ma cos'è? Ma io non me lo ricordo, allora, questo cosa. Non me lo ricordo, perché... Boh. Quante è? Cinque minuti so? Poco. Te registro. Proprio poco. Allora, li dovo tenere i tixi quando spargava i... le cose di ghiaccio. Eh, ci sono dei pezzi che proprio non mi ricordo. Poco. Zero totale. Questo pezzo qua, se me lo ricordo, abbastanza. Ma dovrebbe sparare di due cose. Benissimo qua. L'ospettabilità. Benissimo. Uno dei due. Spampare. Bene. E la prima parte è curata. Poi c'è la seconda, quella di cose che salto e girano. Questo. Questa è la parte più fattiva. La parte più difficile è quella di... Ok. No. Stavo andando il ponte. Stavo andando il ponte umanamente. Allora, adesso li scorre dall'altra parte. Yes. Eh, sì. Mo' cominciano a saltellare. Poi questa parte qua è ancora abbastanza fattibile. Nel senso che... No. Sono un coglione. Ma che cazzo è successo? Ma va a farlo. Ma muori. Ma muori. Eh, sì. L'ho detto che questa parte qua... Dora un pochino. L'altra parte è un po' sfinale. Eh, lo possiamo vedere. Ok. C'era solo un po' di pazienza e un po' di sangueferno. Vedrete che ci rivolverà tutto. Salveremo anche di che. Ok. Ok. Ora. Yes. Ok. 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 Ma va. Come è mai questo tuo sito è il barire? Dai. Fai un uomo di... Perfetto. No. Oui. Oui. yes ok ora sono quelli che saltano che per un po' lo colpivo di nuovo ok ora ok vabbè devo andare qui indietro no cristo santissimo ok ora però dovrei trovare di nuovo vive giusto yes dai ok dai dai ce la facciamo cazzo ah che cambia cambia ora cazzo faceva ah poi sparisce ok ok vieni che abbastaglia cosa fanno già dai è più veloce ma la spara resta abbastanza qui no ok no no non lo so non me lo aspettavo questo cazzo dov'è veramente non lo sapevo spero che sia no è finito ancora no ah sì minchia gesù santissimo è finito dimmi che è finita sì cazzo sì cazzo sì cazzo mica sto boh oh mio mi sta facendo impazzire oh oh i new yu do it my boy bad au go vabbè diciamo è stronzato poverino è vecchio non capisce è finita ragazzi è finito questo tempo è la parte numero 15 è finito bello vi è piaciuto spero di sì dai alla fine è stato molto bello a parte le ultime partite sono giocate molto nel senso che ho dovuto fare ho rallentato un po' ma sono difficili io vi invito rispito tra virgolette a giocarci a dirmi se se non lo trovate tremendamente complicato quanto ci mettete a finire perché veramente impegnativo e niente finito un altro tema come mi ha detto di miei video ero coins di view find real player such a myself voglio fare prendere un show vabbè dai volete a riparare tra adesso innanzitutto ovviamente vi ringrazio per tutte le visualizzazioni mi piaci mi piaci mi piace sono diventato stranieri mi piace ah ah è vero non mi ricordavo più questa cosa è vero in base alle monete di che che trovi ti mette in posizione se il primo ovviamente è Mario Mario è bravissimo a giocare di che in ultrata i 16 ma perché ho giocato molto alla veloce comunque vi ringrazio per tutto il feed positivo che mi avete lasciato a questo gameplay penso che al 99% che dopo questo ovviamente andrò avanti con i miei mini gameplay e gli altri video finirò il gameplay di Team C Devil May Cry perché come avrete visto ho trovato un buon compromesso compromesso non so parlare dislessia cura stamattina sai che mi sono appena svegliato nuovo dicevo ho trovato un buon compromesso per il video e quindi voglio finire quel gameplay perché non mi piace lasciare le cose a metà ovviamente adesso ci sarà tutto il cast dei nemici che passa che passa e ci fanno vedere quanto sono belli e noi nel frattempo che passano non li guarderemo tutti vi ringrazio di nuovo per tutto il feed positivo e niente ci vediamo al prossimo video che sarà appunto quello di DMC cerchiamo di finire una volta per tutte quindi niente ciao ciao